Allora stelle sono qui quasi a lume di candela perché perché se accendi qualche lucetta arrivano certe zanzare così che ti mangio quindi appena accendi dicono guarda c'è qualcuno andiamo eeeh invece è tutto buio non capiscono il caso anzi mi sa che le zanzare sono cieche non ci vedo o ci vedono non lo so capito però appena sento appena vedono ah no scusa ma allora se vedono la luce vuol dire che ci vedono ma cazzo è no è dal calore della luce capito lo sono piccolissimo quindi il calore quindi a lume di candela anzi non è una candela il nonno il nonno è rock and roll guarda è una chitarra che si illumina e tu non capisci un caso ma perché sei un pierre una chitarra che si illumina abba giù capito e c'è pure l'interruttore tac e tac capito quindi sta succedendo un casino a Napoli ho visto ho visto ho visto scene cioè ho visto scene infatti dopo devo devo prenderli per il chap devo trovarli tutti e li devo prendere per il culo ho visto scene ho visto già di è un gran teatro poi i napoletani sapete che sono teatrali ma sto vedendo cose sto vedendo cose mamma mia sto vedendo cose e domani se i gobbi perdono che non perdono ma se perdono motta motta out motta out sarà un campionato stranissimo questo attenzione sarà molto strano questo campionato ma me la sento che sarà strano e sarà confuso vedete 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 basta che non c'è più la marotta league adesso c'è la cardinale league perché ieri 10 minuti ciao stelle